Si parla tanto in queste settimane di editoria, di stati generali dell'editoria in Abruzzo, qual è la situazione? La situazione la definirei positiva, io sono di questo parere, perché registra tante iniziative nuove, tante esperienze nuove, continuano ad esserci finanziamenti pubblici, ovviamente se non c'è innovazione, se non si lavora sui contenuti, poi ci sono le difficoltà, ovviamente l'editoria cartacea soffre una crisi ormai atavica da tanti anni, quindi lì ci sono le situazioni più critiche, però registriamo noi come Core, come attraverso il registro degli operatori di comunicazione, nuove iscrizioni, fatturati significativi, quindi intravedo un momento di crescita, di sviluppo, dopo un momento di stagnazione assolutamente pesante, di riduzione della raccolta del fatturato, meno pubblicità e meno incassi fino al 2014, al primo semestre, noi nel secondo semestre iniziamo a registrare degli aumenti di crescita, addirittura su alcuni emittenti del 30%, ripeto, ci sono finanziamenti pubblici che non vengono utilizzati, quindi se si lavora sulla qualità, sulla progettazione europea, su nuovi format è possibile fare bene anche in questo settore. È cambiato il modo di fare giornalismo, è cambiato il modo di informare? Sì, è cambiato, ma io credo molto che la professione del giornalista debba essere affidata ai professionisti del settore, non agli improvvisati, non anche ai social network che inventano notizie, non c'è la possibilità di verificare, di controllare e quindi tutto perde credibilità. Una volta si diceva la televisione, l'ha detto la televisione, come dire, l'ha detto una fonte attendibile. Ancora oggi la TV conquista la popolazione italiana, un appeal forte ancora sulla cittadinanza, però anche la televisione ha perso un po' quel punto di riferimento che prima era, per esempio, affidato al servizio pubblico. Bisogna tornare a quello, ai professionisti dell'informazione, che con la schiena dritta e con i contratti, giornalisti, tecnici, operatori del settore, possano fare un lavoro di qualità. Abbiamo sempre detto che l'informazione vuol dire anche non solo comunicare, ma anche crescita, sviluppo, lavoro, trasparenza, ancora di più oggi con le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione.